Fond Italia con Tarjebo a Lavazze sei qui in Italia da ultima settimana ho avuto l'Italia ero in Livigno e ora ho avuto ogni volta in Italia ho il tempo della mia vita è un paese bello è sempre bello sento che sia la stessa natura in Norvegia ma è ancora un po' più calma un po' più calma quindi abbiamo piacere di trainare qui e dobbiamo venire qui per l'altitudine quindi ci dà davvero buone preparazioni per le Olimpics quanto è importante per te cambiare il posto per trainare credo sia importante per il cuore anche per la salute mental è buono siamo qui in Italia per 18 giorni ero i primi 9 giorni in Livigno e poi andiamo qui a Lavazze per cambiare un piccolo scenari e ottenere un altro hotel e alcune diverse faciliate di trainare è abbastanza buona per il cuore perchè hai bisogno di motivazione per continuare il lavoro qual è il tuo piacere summer training? mi piace di bicicletta specialmente quando sono qui il bicicletta è abbastanza buono abbiamo avuto alcune belle tripi in Livigno siamo in Passo Stelvio e St. Moritz in Svizzera e stavamo bicicletta davvero buona scenari l'ultima settimana l'ultima settimana hai won il Mast Art il World Cup quanto è importante per te? sì è stato un grande ragione per me 10 anni dopo il mio ultimo globe ho avuto un nuovo e anche se sono l'ultimo è buono che posso mostrare ai ragazzi che sono ancora capace per vincere credo che è importante perché hai un forte team credo che è sempre difficile essere nei 4 atleti per le raci in l'Olimpics sì, è abbastanza difficile solo essere sul team sai che sei capace di prendere una metà quindi la prima competizione è per fare il team nazionale e la prossima è per fare uno dei 4 atleti competendo e poi abbiamo un relazione con solo due ragazzi quindi è sempre qualcosa per lavorare contro e non lo cambiare per nulla anche se è una buona competizione ci siamo aiutati molti per migliorare quindi ci siamo aiutati anche se vogliamo venire quindi è una buona combinazione ho scritto un'interview con te che hai detto che potrebbe essere la tua ultima Olimpics posso confermare? sì non posso confermare nulla ma credo continuare per 5 anni per 5 anni sembra un po' troppo troppo mi concentro suonare l'Olimpics e poi non poterò non poterò per 4 anni perché speriamo a vedere te qui in Italia ma credo per la l'Olimpics in Kartina per l'Olimpics l'Olimpics per l'Olimpics per l'Olimpics per l'Olimpics l'Olimpics per l'Olimpics per l'Olimpics l'Olimpics